Ciao a tutti amici, quest'oggi realizzeremo insieme un buonissimo gelato a limone con Monsergusi Connect Plus o anche con il Bimbi. Iniziamo inserendo nel boccale 230 g di acqua, 150 g di panna, 160 g di succo di limone, poi un pizzico di sale e 200 g di zucchero. Tutti gli ingredienti liquidi dovranno essere a temperatura ambiente. Impostiamo il robot 10 minuti a velocità 3 per 80 gradi. Trasferiamo in un contenitore largo e basso, facciamo raffreddare completamente e poi trasferiamo in congelatore almeno 8 ore. Trascorse le 8 ore usciamo dal congelatore, lasciamo in posa qualche minuto e poi tagliamo a tocchetti. Procediamo alla mantecatura, impostando il robot prima a 3 secondi a velocità 9 e dopo 10 secondi a velocità 6. Sistemiamo in un contenitore per gelato e conserviamo ancora in congelatore 2-3 ore prima di servire. Ogni volta, prima di servire il gelato, occorrerà tirarlo fuori dal congelatore almeno 5 minuti prima. Il nostro gelato al limone è pronto. Se questa ricetta ti è piaciuta, lascia un like e condividila sui social. E se non vuoi perderti le prossime ricette, iscriviti al canale e attiva la campanella. Io ti ringrazio fin da ora!